Currate 105 e 30 secondi e saranno le 9 Hello, hello, hello amici, buonasera Buonasera e benvenuti a 105 Night Express Con noi Rebecca Staffelli e Alessandro Sansone Hello Ale Hello, 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 buonasera amici, ben trovati Mercoledì 10 di gennaio Io mi sto accomodando comodamente sul comodo, scabello che ci dì Comodissimo No, no, è comodo in realtà, però bisogna soltanto trovare l'altezza giusta per poter poi Stare insieme un paio d'ore in totale tranquillità Eccoci qua, tu sei bella accomodata? Io sono bella accomodata e saluto, approfitto per salutare anche tutti i nostri amici C'è il canale 66 del Digitale Perché questa è una radio, amici, che potete ascoltare Ma anche vedere, fortunatamente per alcuni, non per stasera Perché io sono ancora con il mio cappottino Cappottino, cappottone, più la felpa, più 10 strati che sotto Sono vestita a cipolla perché anche a Roma è arrivato il gelo più totale È giusto Siamo al 10 di gennaio, finalmente è arrivato Doveva arrivare Grazie